L'altra cosa che mi è sempre rimasta in mente è che quando arrivava nel cortile la padrona, la mamma, noi tre o quattro più piccoli, ci faceva andare in casa, non potevamo assistere. Io che ero curiosa, che avrei voluto vedere questa donna che arrivava con, che era la Contessa Carboneri di Parma, che arrivava con l'ombrellino e vestita benissimo, non potevo vederlo perché la mamma ci mandava in casa. Più tardi ho capito perché nel contratto di mezzadria i bimbi e i ragazzi, i bimbi che non erano braccia da lavoro, che erano solo bocche da sfamare, non voleva che la padrona arrivando nel cortile vedesse otto figli che quattro non potevano lavorare e che la padrona avesse la possibilità di contare quante tazze di latte al mattino la mamma sottraeva per darci da mangiare. Perché lì c'era solo fino alla terza elementare, quindi gli altri due anni, fino alla quinta bisognava spostarsi e andare nel centro del comune. Quindi per me, che facevo già tre chilometri da casa per andare a quella scuola, se ne sarebbe aggiunti altre tre per andare a scuola fino alla quinta elementare. Ma questo non era il problema più grosso, il problema più grande era che nelle famiglie oramai era diventato radicato l'abitudine, anche il pensare che se c'era qualcuno in famiglia che si doveva fare un sacrificio con la maggior spesa, doveva essere un uomo, non doveva essere una donna. Quindi per me non si è neanche posto il problema. Io alla terza elementare dovevo stare a casa e basta, perché non c'erano le possibilità per mandarmi a scuola fino almeno alla quinta elementare. Ma questo era una cosa che non... eravamo abituati a sentire e a capire. Perché il sapere delle donne nella mentalità corrente di allora voleva dire portarlo fuori di casa. Perché una volta te sposata tu andavi da un'altra casa, in un'altra casa, in un'altra famiglia. Quindi invece dovevi essere solo una brava moglie per la nuova vita. Cioè tu dovevi solo sapere ramendare, doverli sapere fare le calze per tuo marito, rattoppare i pantaloni, fare tutte queste cose. Questa era l'idea corrente anche delle famiglie. Quindi io, fatta la terza elementare, cominciai ad andare a lavorare in campagna. E d'inverno, quando c'era la neve, a piedi andavo dalle suore per imparare a cucire, rattoppare. Non dico ricamare, che non ti insegnavano a ricamare come facevano le figlie dei ricchi. No, noi imparavamo a ramendare, imparavamo a mettere le toppe nelle ginocchia e nel sedere dei pantaloni e così via.